Tra le altre cose per i miei ascoltatori c'è anche la notizia che ieri è uscito il tuo nuovo libro, Perfetti o Felici, brossura con alette, 14 cm per 21,5, 256 pagine a 17 euro, mi sembra un ottimo prezzo. Sì. Sei contenta? Un rapporto qualità-prezzo secondo me davvero competitivo. Diventare adulti in un'epoca di smarrimento, questo è un po' il focus del libro. Volevamo proprio iniziare chiedendoti, adesso senza rubare tempo alla prima telefonata, però di questa notizia che abbiamo letto proprio prima di entrare in studio, di questi 56 studenti ritirati dal liceo Brescia perché troppo stressati, il liceo ha fatto un questionario agli altri studenti dove hanno evidenziato tutti i loro punti di stress che sono, ti sorprenderà le interrogazioni. Guarda Ale, non mi sorprendi perché io sono un po' una spia a Lavana, nel senso che questa faccenda la conoscevo perché sono un'infiltrata, immaginerai avendo uno dei miei studi a Milano, non solo, anche parte dei miei pazienti mi avevano portato questa notizia di primo pelo. Allora devo dirti, il libro in realtà si concentra sulla generazione successiva, gli adolescenti oggi appartengono alla cosiddetta Gen Z, però qualcosa secondo me possiamo comunque dire tra le tante che potremmo così individuare, ed è questa secondo me, questi ragazzi oggi fanno tanta fatica rispetto all'impegno, rispetto all'olio di gomito come l'avrebbe chiamato mia nonna, secondo me non tanto perché non reggano la pressione, poi sulla questione dell'educazione alla frustrazione sicuramente potremmo entrare, sappiamo che fin da bambini i genitori fanno tanta fatica a scontentare i figli, ma ne farei una questione un pochino più bizantina, un po' più raffinata, ovvero mi sembra che non ci trovino dentro un loro senso per il quale mettersi lì a fare fatica, a studiare, magari sacrificare altri ambiti della loro crescita, della loro evoluzione, finalizzati a portare un risultato, perché non riescono a metterci dentro un significato che appartenga a loro, cioè noi in qualche modo, parlo per me, però credo che possa essere generazionale, avevamo uno scopo e prima o poi portavamo a casa l'anno scolastico, chi meglio, chi peggio, perché dentro avevamo almeno l'obiettivo che ci fosse un domani, che ci fosse un futuro, che ci dava un appuntamento e che sarebbe arrivato per portarci da un'altra parte. Oggi questi ragazzi, se li ascolti, ti dicono una cosa che dalla loro soggettiva ha senso, cioè avvertono questo altro esterno, anche un po' indifferenziato, che non sanno bene chi sia, perché se parli con i genitori ti dicono, no, non siamo stati noi a mettere addosso delle pressioni. Se parli con i loro professori ti dicono, ma noi facciamo di tutto per aiutare questi ragazzi, magari non al Berchet, che è una scuola altamente competitiva e veramente molto richiedente da un certo punto di vista, però non si capisce chi sia questo qui che chiede a questi ragazzi così tanto e viene percepito come un altro altamente giudicante, sempre lì con in mano una penna rossa, a dare una valutazione di valore o di disvalore rispetto a una cosa di cui loro non riescono ad appropriarsi. Quindi la vera domanda non è tanto ci riesco o non ci riesco, ma lo faccio per chi? Lo faccio per cosa? Perché certamente per me, per il mio futuro, per la mia prospettiva, per un lavoro o un domani per dei soldi, non mi sembra che io lo stia facendo, perché ci avete detto che tanto tutto questo non ce l'avremo. La fatica fatta a queste condizioni diventa insopportabile. Sì, allora questo sì, nel mio caso personale, che vale ovviamente pochissimo in quanto non è applicabile, allora anch'io quando andavo al liceo io non lo facevo per un obiettivo, anch'io lo facevo senza sapere perché lo stavo facendo. E io non sono assolutamente di quelli che pensano che i ragazzi di oggi siano più stupidi dei ragazzi di tot generazioni fa, però penso che ai ragazzi di oggi vengano date più vie di uscita rispetto a un obbligo. Verissimo Ale, ma per arrivare dove? Cioè ti faccio una domanda, dimmi se sei d'accordo. Però anch'io lo sapevo, però a un certo punto mi veniva detto, è così, è così, cioè dove sta scritto che questi ragazzi non debbano avere della pressione? Cioè perché, ah no, noi siamo troppo pressati, cioè ci sta. No, no, io sono una fan della pressione, attenzione, e anzi, come sai, spesso abbiamo invitato i tuoi ascoltatori, fin da bambini, a davvero tollerare, come adulti, aiutare a tollerare i no piuttosto che i confini o i limiti. Secondo me qua dentro c'è una faccenda diversa, però dimmi se ci stai. Tu sei mai stato bocciato? No. Ok, potrebbe essere che sia successo anche solo perché non avresti voluto perdere un anno in più per fare in sei anni il liceo che avresti potuto fare in cinque, perché in qualche modo, non ti dico che avessi fretta, ma avevi una giornata che si inanellava il giorno dopo quella successiva. I ragazzi di oggi, invece, hanno una percezione del tempo che in qualche modo non sta dalla loro parte, perché non hanno un posto dove andare. E non ti dico che l'hanno perso, non si ha ragione di dolore o insoddisfazione, ma dai loro un'occasione per bloccarsi e l'accoglieranno di sicuro, perché tanto non stanno andando da nessuna parte. No, no, esatto. Allora, per me non è stato così, ma credo che tu abbia ragione, sicuramente è come dici tu. La domanda è, la società cosa deve fare? A questo punto la scuola di riflesso deve fare come fanno tutti i brand che per paura di perdere clienti si abbassano alle lamentele dei clienti o la scuola deve tenere dritto e dire amico mio, sei stressato? E questa è la vita. Cioè, cosa deve fare la scuola in questo caso? La scuola è della scuola, Ale. La scuola deve fare la scuola. E deve tornare... Io ho il timore che invece la scuola, pur di non perdere studenti, si abbasserà a eliminare ulteriormente ancora la pressione e lo stress per accontentare invece di testare. Hai perfettamente ragione. Ti ricordi la puntata scorsa, non so se chi ci ascolta l'ha sentito, quando mi dicevi che sapevi che fossi stata a Roma a fare la formazione insegnante e i dirigenti scolastici, parlavamo esattamente di questo. Nel senso che ci sono dentro i ragazzi e in qualche modo la loro soddisfazione, ma l'aspetto perverso è che più di loro, che dovrebbero essere, se vuoi, i consumatori della scuola, ci sono dentro le loro famiglie. E spesso dentro al patto di alleanza, dentro al ponte tra la scuola e la famiglia, la scuola, secondo me, è più che strezzare l'occhio allo studente, che potrebbe anche avere un senso a un certo punto mettersi lì con i grandi, quelli del liceo, dei superiori al tavolo delle trattative e discuterne, potrebbe anche diventare un atto politico. Temo che lo faccia per accontentare i genitori di questi ragazzi, che sono più dei loro figli, coloro i quali chiedono che non sia messa addosso una pressione. E dentro a questa cosa qui, in effetti, ci stiamo perdendo. La scuola è della scuola e la scuola deve fare la scuola. Quindi l'istituzione, che per sua natura è frustrante, per sua natura è simbolicamente paterna, perché ti dà un codice, ti dà delle condizioni, ti dà delle sanzioni a fronte delle condizioni disattese. E dobbiamo avere il coraggio di starci di fronte a questa roba qua.